Sto vivendo questa esperienza con l'Israel Cycling Academy in maniera positiva. È già un anno che sono qua, conosco bene l'ambiente, parto sicuramente con più fiducia, ancora più fiducia e sono veramente motivato per il 2020. Adesso con la squadra andremo in Israele per due settimane e dopodiché la preparazione continuerà con un altro ritiro a Gran Canaria e dopo febbraio penso di debuttare alla Valenziana come quest'anno per poi proseguire Tireno Adriatico e Milano Sanremo. Questo progetto lo vedo e lo vedevo già bene l'anno scorso, quando sono arrivato me ne hanno parlato molto bene, sapevo che la squadra aveva ambizioni di crescere ma onestamente non pensavo in maniera così veloce. In un anno siamo già diventati World Tour, è cresciuto l'organico, è cresciuta anche la squadra e questo ci fa ben sperare. Io sono innamorato, follemente innamorato del mio paese perché penso che non ci sia bellezza come l'Italia in qualsiasi tipo di cose dal panorama ai paesaggi al mangiare a tutto quindi io spingo perché secondo me non sappiamo valorizzare al 100% il nostro territorio e vorrei che anche le organizzazioni, la politica spingesse di più per valorizzare quello che la natura ci ha dato.